Il Signore disse a Mosè ad Aronne nel paese d'Egitto Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi Sarà per voi il primo mese dell'anno Il Signore disse a Mosè ad Aronne nel paese d'Egitto Parlate a tutta la comunità di Israele Il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia Allora Mosè stese la mano sul mare E il Signore durante tutta la notte sospinse il mare con un forte vento d'Oriente rendendolo asciutto Le acque si divisero Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto Grazie a tutti